Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video! Io sono Mari Io sono Alice E io sono Adriana Oggi siamo qua per fare un video spacchettamento di un pacco che ci è arrivato stamattina Il mio! Ed è per Alice Allora, i bambini non sanno cosa c'è dentro quindi lo spacchettiamo subito Tengo a precisare che questa non è una collaborazione ma è una cosa che ho acquistato su Amazon Metto giù il link del venditore Amazon dal quale ho preso questi prodotti Questa è un'azienda che io avevo contattato però ho visto che non aveva il negozio online ho cercato su Amazon ed ho trovato un venditore quindi l'ho acquistato da un venditore non direttamente dall'azienda Allora, si avvicina la festa di Alice Si avvicina il compleanno di Alice Adesso quanti anni fa Alice? Alice 5 Quanti anni fai? 5 5 E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato Un pacco Abbiamo comprato un pacco Ma cosa c'è dentro questo pacco? Che è arrivato in due giorni perché ho richiesto la spedizione veloce No da Wish L'ho comprato su Amazon 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 è un'azienda italiana E abbiamo comprato Uuuuuh Abbiamo comprato Tutte le cosine per la festa di Alice Nel frattempo state facendo cadere un sacco di cose a terra Certo che lo puoi dire quando è il compleanno di Alice Allora La mia Alice è il 18 settembre Il 18 settembre Allora ragazzi Abbiamo spacchettato Una matita Un po' di confusione Allora Abbiamo comprato Dei piatti Dei Dei matita Aspetta quella della matita ora la devo dire perché è bellissima Dei tovali biodi Dei bicchieri E dei bicchieri Della marca Big Party Italia Questa collezione è la collezione caramelle Lecca lecca Collezione lecca 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 Aia Se volete seguire Big Party Italia Li trovate su Instagram Io li ho conosciuti grazie di Instagram Ogni tanto mi spuntano delle bellissime fotografie Di tutte le collezioni che loro hanno E sono veramente fantastiche Ho deciso di chiedere a Big Party Italia Proprio Questa collezione Perché stiamo facendo la festa a tema lecca lecca Ma ci sono per esempio Delle collezioni bellissime Anche a tema Caccaica A tema Margherite Fiori Sono bellissime Ne ho viste veramente poche Di questo genere Quindi ho voluto acquistare le cose da loro Proprio per questo Devo dire che purtroppo Questo pacco di tovaglioli È un pochettino rovinato Non so se si vedrà Cercherò di mettere in primo piano Questa parte Ho trovato questi tovaglioli Un pochettino danneggiati Purtroppo Però voglio aprire con voi I piatti Perché i piatti non sono bianchi e rosa Ma hanno tanti colori Un attimo abbiamo Apriamo questo banco di piatti Allora abbiamo aperto i piatti Allora abbiamo aperto i piatti Qui sono giallo Fatti vedere Gialli Gialli Due gialli Poi due rossi C'è Due azzurri Sì Poi Due Fucsia E due fucsia Quindi sono otto piatti Otto piatti E Poi ce ne sono altri otto Altri otto Perché Questo kit che ho comprato Conteneva due pacchi di piatti Due pacchi di tovaglioli Due pacchi di picchieri E poi c'è nel regalo Una bellissima matita Da portare sempre con te Ragazzi Questa qua è stata proprio È stata la cosa che mi ha fatto convincere di più Ad acquistare questo set di piatti, bicchieri e tovaglioli Ma mi dite un po' Perché avete scritto questa cosa della matita? Avrei capito Se avessi messo Dieci matite Otto matite Diciamo Dodici matite Perché sono Sedici matite Ma una matita Che cosa me ne faccio? Me la metto in borsa Non si sa mai Da portare sempre con me Così serve per scrivere dei commenti Dei commenti Ok, va bene Ragazzi Che cosa vi serve per lavorare, per prendere le cose Per fare la spesa Certo, esatto In effetti possiamo scriverci questo Va bene Nel pacco ho trovato anche questa cosina qua Che sicuramente è la ditta con la quale loro Il venditore Amazon Utilizza a fare le spedizioni Io invece l'ho ricevuto con SDA Eccomi i bambini sono andati via Quindi continuo dicendovi Che questo pacco mi è arrivato in due giorni Con SDA Ho pagato qualcosina in più Ma proprio una roba tipo un euro in più Proprio perché avevo premura di ricevere i prodotti Perché devo organizzare la festa al più presto Quindi ragazzi cosa dirvi Sono rimasta molto contenta della qualità Devo dire veramente Vi farò vedere in un altro video Opposito come ho addobbato la sala Come ho sistemato tutte queste bellissime cose nel tavolo Insieme a queste ovviamente metterò delle altre cose E quindi ci vediamo alla prossima Spero che questi prodotti vi siano piaciuti Che vi possa essere utile questo video E mi raccomando se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Lasciatemi un like Commentate sotto perché io rispondo sempre a tutti Anche solo con un cuoricino Ma rispondo sempre a tutti E questo video si conclude qua E ci vediamo alla prossima Ciao da Alice e Adriano e mamma Ciao E da Crash Vimari Ciao Ciao Ciao